Sono Luca Bassi, ho 23 anni, sono studente di laurea magistrale in informatica all'Università di Bologna. Sto svolgendo la mia borsa di studio all'INFN CNAF di Bologna sotto la supervisione del tutor Francesco Giacomini. Per il mio progetto sto sviluppando delle tecnologie utilizzando eBPF e XDP, in particolare fare tracing tramite eBPF, load balancing e monitoring di rete utilizzando XDP. Ho scelto di fare domanda per la borsa GAR perché coniuga le due mie grandi passioni, cioè l'informatica, la parte più di ricerca scientifica e mi piace molto coniugare la parte di sviluppo software con la parte più di ricerca.